...fugge dietro per Loria, attenzione, Giaccherini recupera il pallone, questo è il pallone del match, Giaccherini, 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 ancora Giaccherini, Giaccherini e Slalom, Giaccherini, un gol fantastico di Emanuele Giaccherini, al 45esimo, la Juventus si sblocca con un gol strepitoso dall'ex giocatore del Cesena, Juventus 1, Bologna 0, sembrava Alberto Tomba, uno Slalom tra i giocatori del Bologna, straordinario, superbo, meraviglioso, Emanuele Giaccherini, il primo gol con la maglia della Juventus per lui, è una serata che ricorderà davvero a lungo Emanuele Giaccherini, era già stato uno dei migliori, Giaccherini ha messo la ciliegina sulla torta, 45 minuti sul cronometro nel secondo tempo, al novantesimo, Giaccherini, finalmente Bucagliardi con questa azione personale bellissima, bellissima, e abbiamo in tasca i quarti di finale. A presto! and find it in the deep end made of what you bought, sorry you've got no choice will you find it in the deep end now This level is called Rucinic and that's it, that's it for the Dino for the long end Rucinic And look at the left Oh, that's horrible for the Dino That's horrible And the last one And the one to give up And the one to give it to Giacchemini It's incredible In qualche seconda cosa si è passato con un passaggio presso per il generale Il gioco la maniera di 2-0 e allora sul conto Eh bien... C'è un passaggio che è obligato di sottolineare Con questa minima, un'organizzazione abbastanza lunga per il gioco Il gioco il gioco il gioco L'entrata di Boutinic e da Savoane, non per rien Guarda il lavoro che ha fatto Mercolo Boutinic Mercolo Boutinic attendono il rebond del ballon Il essaia di vedere il suo partenaire, un po' di passaggio Alla parte tra il gioco. Salta Almirone, trova Marchisio, Piellini Alla per Giaccherini Uno contro uno... Alcrozzo il secondo pallone Pogba, gancio straordinario di Pogba E poi stato Alcrozzo, deviato con il secondo pallone Attenzione Giaccherini Giaccherini!!! Giaccherini!!! Forse il gol che può parerello Scudetto Al 92esimo! Giancarini dalla panchina Juve a più 9 Juve a più 9 Ciccanto ma cosa ha fatto Pogba su quella palla lì Pogba un alieno Cosa non ha fatto poi il cross se non sbaglio è Andukar che ha smanacciato prima la deviazione poi Andukar esattamente guarda che aggancio guarda che aggancio che ha fatto ragazzi che roba che bravo guarda tocca Andukar poi Giaccarini col petto e tocca piano all'angolino e il muro del Catania cade al 91esimo minuto 92esimo appena iniziato col destro sporco di Giaccarini il più bravo a recuperare il pallone Juve 1 e Catania 0 Giaccarini Giaccarini gol del 3 a 2 per la Juventus quando siamo al 91esimo Giaccarini 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 Giaccarini